Da Roma al Sud America, alla Spagna, all'Olanda e al Portogallo fino a Monopoli, Edoardo Soleri, 24 anni, il prossimo ottobre si aggiunge a Riggio e Currarino nella campagna di rafforzamento invernale della società del patronono Frio Lopez. Attaccante dal fisico prestante, proviene dal Padova dove nell'ultimo anno e mezzo ha messo a segno tre reti in 31 partite. La storia del nuovo attaccante del Monopoli è davvero particolare. Ha fatto la scuola calcio in Brasile e Argentina dove aveva seguito il padre in trasferta per motivi di lavoro. Poi il passaggio al settore giovanile della Roma con numeri da record in una squadra che annoverava tra gli altri anche Sadic e Zaniolo. Due triplette nel derby contro la Lazio dopo l'esordio in Champions League contro il Bate Borisov, arrivato a nemmeno 18 anni, al fianco di gente come De Rossi, Florenzi, Scesni, Pjanic e Salah. Poi lo Spezia in Serie B, l'Almeria in Spagna, l'Almer City in Olanda e il Braga B in Portogallo. Ora l'avventura in Puglia con la voglia di consacrarsi e di legittimare quelle parole di elogio che tutti avevano per lui, magari cominciando già da domenica 10 e dalla Ternana in trasferta, primo avversario del 2021. Nel frattempo ancora calda la pista che porta le trattative con il Bari, che potrebbe girare in Puglia, Mlidi, Corsinelli e Marfella. La strada per loro però sembra essere ancora lunga. Grazie. Grazie.